Ma io intanto guarda, guardi, è l'unica cosa che per assurdo, intanto so che c'è un'altra partita, quindi già sono su due partite, se una squadra fa bene, meglio degli altri, alla fine come giustizia bisogna che passi il turno quella che fa meglio, sperando di far meglio. Quindi già questo mi dà una relativa tranquillità perché eventualmente c'è sempre una prova d'appello, non è una sentenza definitiva, non è una finale unica, come vi ho detto prima, la finale di Coppa Italia è una partita secca dove può succedere sempre di tutto. Quindi già questo mi lascia relativamente più tranquillo, però è chiaro, come tutte le cose, come si dice, non so, un detto che si usa tanto, chi ben comincia è a metà dell'opera, intanto sarebbe bene iniziare bene, no? E poi vediamo quella dopo. Perciò insomma tutto questo ti mette con onestà un po' di adrenalina in più, un po' di apprezzione in più. C'è un po' di incognita, in più c'è la condizione degli altri che per forza è più oleata, quindi voi sapete il mio principio da sempre, se uno è bravo tecnicamente, ho ammesso che sia leggermente più bravo degli altri, ma non arriva mai prima sulla palla, non fa nemmeno tempo a far vedere che è più bravo. Quindi questo è da capire più che la, diciamo, la corsa generica, io sono sicuro che la squadra dopo come hanno lavorato ce l'hanno, il problema è la brillantezza nel quello che poi serve al calcio, arrivare un attimo prima sulla palla degli altri e fare la giocata vincente o fare quella giusta. Quello che devo vedere e capire durante la gara. E nel caso in cui dovessimo essere un pochino sotto gli altri bisognerà, ecco perché ho parlato della tattica, essere talmente maturi e bravi a supplire a questo aspetto con accortezza tattica e intelligenza tattica. Queste sono le cose importanti in questo momento anche e su questo che mi affido di più proprio perché ho avuto la maggior parte della squadra che giocherà domani per 7-8 mesi e quindi da questo punto di vista ho abbastanza certezze. A volte il nostro spirito gagliardo di fare sempre gioco ci porta un po' incarnando lo spirito dei nostri tifosi che amano molto questa cosa che è la nostra, essere propositivi, attaccare sempre. Bisognerà, e io gliel'ho detto, ci sono momenti in cui bisogna saper ragionare di più, c'è un momento in cui bisogna rifiatare e si può farlo anche con un bel palleggio, con un momento in cui la partita sembra un po' di stanca, magari i tempi morti vanno un po' allungati. Certe cose che gli ho detto ai giocatori nello specifico, ora non sto qui a elencare le cose che si possono fare, però bisogna tenerle in considerazione in modo maggiore in questa partita, in questo tipo di partite. E grazie a Dio ho avuto l'esperienza per due anni alla Sampdoria e ho avuto anche a loro, dicevo, certe cose in certi momenti, soprattutto un partita a livello internazionale anche quando giocheremo su campi avversari. Certe cose sono importanti e ora noi bisogna fare il salto di qualità anche da questo punto di vista, per ora è stato detto in teoria, è stato fatto in settimana, bisogna essere bravi, essere lucidi a portarlo nella gara vera. E voi sapete, quando vi ho detto anche l'anno scorso, la maggior parte dei nostri giocatori domani, a parte alcuni, fanno l'esordio nelle coppe e quindi questa l'esperienza delle coppe non ce l'abbiamo. Tante cose, si è lavorato per ora sulla carta perché quando fai le cose in allenamento io la chiamo teoria. La pratica è poi la partita vera e lì dove bisogna essere lucidi anche quando siamo sotto adrenalina, quando siamo spinti dal pubblico nostro oppure quando siamo, come dire, oppressi, tra virgolette, dal pubblico avversario. Noi bisogna continuare a fare il nostro gioco, essere lucidi, non farsi prendere dall'entusiasmo, dalla negatività. Non vado mai con la classifica perché ogni anno è un anno diverso, ci sono avversari diversi, situazioni diverse, non si può fare un raffronto con l'anno passato, quest'anno, non si potrà fare. Perché in teoria per poterlo fare bisognerebbe mettere tutte le altre squadre con le stesse rose, con gli stessi allenatori, non si può fare. L'unica cosa che io vorrei quest'anno è, aspettate, oltre a questo c'è la variabile che quest'anno siamo qui a parlare di una partita di Coppa, non è che abbiamo solo il campionato. L'anno scorso avevamo solo il campionato perché la Coppa Italia siamo usciti subito quasi per scelta, anche se perdiamo la partita con la Juventus, ma lì voi vedeste anche nelle scelte avevo altre priorità. C'era da mettere una nave, da addirizzare una nave che stava sbandando e la priorità era il campionato, non potevo perdere tempo con la Coppa Italia e poteva portare confusione e dispendio di energie importanti. Quindi la Coppa Italia l'abbiamo abbandonata, quindi noi ci siamo focalizzati solo a salvare la barca e fare il meglio possibile, far crescere la squadra e fare punti. E siamo arrivati i sesti. Quest'anno si parte, come giustamente hai detto, da zero, però ci sono una competizione importante che ci deve far crescere, come ho detto a fine... L'anno che quest'anno comunque è importante passare questo turno perché ci permetterà di fare un'esperienza importante con squadre sicuramente importanti nella Coppa UEFA. È una crescita per i nostri giocatori, per la nostra esperienza, per la società, per i tifosi, per la città. È una crescita comunque, cercando che tutto questo non ci porti a perdere dei punti in campionato. E lì io non mi sento di dire qual è il piazzamento e noi puntiamo quest'anno. Io dico solo, quello che dico sempre ai giocatori, io ogni partita, che sia di Coppa, che sia di campionato, che poi anche quest'anno probabilmente ci sarà anche la Coppa Italia, perché grazie al sesto posto entriamo già agli ottavi, quindi siamo vicini alla fine e diventa importante anche la Coppa Italia grazie al sesto posto dell'anno scorso. Allora dico io, cerchiamo di pensare, come ho sempre detto, partita per partita. Per crescere una squadra giovane, con valori importanti come cominciamo a averli noi, bisogna che ragionino così per fare una crescita proprio dal punto di vista generale, che si vada sempre a cercare il risultato massimo, che abbiamo un'identità, una mentalità che finita una partita, dopo tre ore la scordiamo, correggiamo gli errori e andiamo a cercare quella dopo. Basta, io penso di poter dire così. Questo è la crescita e devo vedere. A livello di classifica, ora come ora, non è giusto mettersi gli obiettivi precisi. E non è nemmeno, come diceva Rino l'anno scorso, parlando così che i giocatori non sono stimolati. Non è vero, perché io a loro gli dico che ogni partita io penso di poterla vincere. Quindi se loro ragionano come me, poi alla fine si vede dove siamo arrivati, come si è fatto l'anno scorso. Io so che giocano molto bene, perché giocano molto bene, sono propositivi che attaccano. Se le facciamo attaccare, attaccano in molti. E' un calcio, ecco perché vi dicevo al signore prima che non è così, perché ormai il calcio da diversi anni, se non chiudiamo gli occhi per non vederlo, ogni partita è combattuta. E se non c'è l'attenzione massima a essere alla pari a livello tattico, a livello di corsa e tutto, anche il leggero valore tecnico in più non viene messo in evidenza, non si vede. Io vi voglio dire una cosa, un adeduto, per esempio per rafforzare questo concetto. Ai giocatori miei quest'anno gli ho fatto vedere un filmato, uno solo. Lo sapete che partita gli ho portato a fare? Spagna-Svizzera. I campioni del mondo che persero con la Svizzera. Gli ho fatto vedere come ha perso la Spagna con la Svizzera, che poi dopo ha vinto il mondiale. È l'unica sconfitta che ha fatto. Chiedete ai ragazzi se non è vero, cosa ho fatto vedere. Ritiro io per far capire che questo concetto che ho detto prima, sembra che mi ero fervorato con chi mi ha fatto la domanda, ma proprio perché vorrei che si cominciasse a ragionare così tutti, perché altrimenti i miei giocatori poi vengono distolti magari da un'intervista fatta in buona fede, e dici ma domani è già passato il turno perché sono svedesi o perché sono danesi. Questo non deve più nemmeno passarci per la mente, se no facciamo come la Spagna contro la Svizzera. Perché i valori, effettivamente, senza che la Svizzera si offenda, e qualcosa in più ce l'aveva la Spagna. Ma se voi vedevate la partita, che probabilmente qualcosa non è tornato, la Svizzera ha meritato di vincere contro la Spagna.